Saranno gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico ad eleggere il 16 febbraio con le primarie aperte in tutta la Sicilia il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Io con la mia ricandidatura ho inteso garantire lo svolgimento del Congresso contro ogni ipotesi di accordo di palazzo, di spartizione, di poltrone, poltroncine e di accordo di potere che altri avevano immaginato e che tendeva ad evitare lo svolgimento del Congresso con una candidatura unica, non unitaria. Io ho presentato una mozione dal titolo Insieme per cambiare la Sicilia. Ecco, questo insieme è rivolto innanzitutto a tutti gli iscritti, a tutti gli elettori del Partito Democratico. È una grande occasione e mi auguro che la partecipazione sia molto alta. L'azione di governo è stata deludente in questi mesi, ci saremmo aspettati di più. È stato con grande forza e determinazione al Presidente della Regione di dare una marcia in più al suo governo, di dare più risultati. Purtroppo anche la gestione di questa finanziaria 2014 è stata assolutamente inadeguata, è stato controproducente più che inutile il contraddittorio, lo scontro con il Commissario dello Stato, non ha portato alcun risultato. Anche le risorse liberate adesso, circa 350 milioni, grazie all'intervento del Governo nazionale, sono insufficienti. La coperta è stretta, non basteranno a coprire tutte le spese e questo ovviamente è un tema che dovremo affrontare. Il Governo Crocetta deve dare risposte in tempi rapidi alla grave emergenza sociale che vive la Sicilia e innanzitutto alla grande richiesta di lavoro. È possibile, abbiamo le risorse per poterci riuscire, questo è il nostro impegno.